Nel quarto mistero doloroso si contempla il viaggio accorgato di nostro Signore Cristo carico della croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cene e così in terra. Dattici oggi il nostro pane quotidiano, rivediamo noi i nostri debiti, come noi rivediamo i nostri debitori, e noi ci rimaniamo nella stazione malita del Cielo Armato. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. E' un'altra parte di Dio, che dice per noi, peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria Madre Vida